rischi allo sterminio, gli appelli per salvare gli indios senza protezione dal virus e senza cure e ancora ultime scoperte sui bambini e SARS-CoV-2. Buon pomeriggio dal Tg della Scienza. È italiano il primo studio al mondo che mette in correlazione Covid-19 nei bambini con la malattia di Kawasaki, una rara sindrome. I numeri sono aumentati ed è stata fatta una scoperta importante. Sentiamo quale da Valentina Fizzotti, Tgr Lombardia. Sempre si pensa che ci siano dei virus a stimolare il sistema immunitario e quindi a causare indirettamente la malattia di Kawasaki. Ma prima nessun virus era stato riscontrato. Invece oggi sappiamo che questo virus sicuramente è collegato a questa malattia. Una correlazione con il Covid-19 potrebbe aiutare a conoscere meglio una sindrome infiammatoria rara, la Kawasaki, che normalmente colpisce in Italia 14 bambini su 100.000. Un'incidenza che l'epidemia da coronavirus potrebbe aumentare è lo studio di un team di pediatri dell'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Dieci nuovi casi analizzati, otto con risposta serologica positiva al coronavirus. Numeri troppo esigui, spiegano gli autori, per trarre conclusioni ma sufficienti a stabilire un legame. Esiste una chiara correlazione. Durante questa epidemia abbiamo visto un numero di casi che corrisponde a quelli che vediamo di solito in cinque anni. Cioè fino ad oggi abbiamo visto 20 casi circa in un mese o poco più. Un andamento simile a quello osservato anche a Londra o New York. Nessun allarme da Bergamo, ma un'allerta ai medici perché non sbaglino la diagnosi di eventuali casi. Non è una questione allarmante dal punto di vista generale perché comunque questa rimane una malattia rara che potrebbe colpire circa un bambino su mille infettati, per esempio. Però dal punto di vista medico è importante perché questa è una malattia che va diagnosticata e trattata precocemente. E talvolta ha bisogno anche di cure intensive. Fra i casi osservati nessun bambino aveva i sintomi respiratori classici da coronavirus, ma eruzioni cutanee o mucose infiammate tipiche della Kawasaki che colpisce i vasi sanguigni. A differenza della sindrome sin cui conosciuta però, manifestazioni più severe su bambini anche più grandi, sopra i 5 anni. Tutti hanno però risposto bene alla terapia standard, d'usaggio altissimo di immunoglobuline per spegnere l'infiammazione, aiutare il cuore e prevenire un aneurisma coronarico, antinfiammatori comuni e cortisone solo sui casi più gravi. I bambini sono guariti tutti. Lasciamo per un attimo i nostri ospedali. Cosa sta capitando nelle zone remote del pianeta? In Amazzonia Covid sta sterminando gli indios. Missionari intellettuali rilanciano l'appello del fotografo Sebastiano Salgado che sta raccogliendo milioni di firme. Gli indios vivono nella terra più ricca di risorse naturali e attraverso la devastazione dell'ambiente il virus arriva loro. Sono già centinaia i casi, quasi un terzo i morti. Laura Dedonato. Sono gli anziani della terra custodi di conoscenze dimenticate, di un equilibrio con la natura, esclusi dal circolo pulsante della crescita economica, dei consumi, più vulnerabili a malattie che ormai per molti di noi non sono più letali e privi di ospedali, respiratori, costose strutture sanitarie. Se c'è qualcosa che ho imparato condividendo il mio tempo e camminando nella foresta con i popoli indigeni è che quello che noi chiamiamo natura o terra, loro lo chiamano casa. Per noi quegli spazi, quelle foreste sono vuote, sono terra selvaggia, ma non è affatto così. Quelle foreste sono state gestite e plasmate dai popoli indigeni per generazioni. Sono loro i migliori custodi della natura, i migliori conservazionisti. L'Indios dell'Amazzonia sono 300.000 persone che raccogono una delle più alte concentrazioni di diversità culturale, 290 comunità, 102 gruppi etnici, 200 lingue diverse. All'inizio della pandemia di Covid-19 abbiamo perso gli anziani, i più colpiti dalla letalità del virus, più vulnerabili, e con loro la memoria culturale, storica, affettiva di una generazione. Ora in Amazzonia c'è il rischio che si perda la storia delle nostre origini, la conoscenza di un equilibrio con la natura che non abbiamo più. Il fotografo brasiliano Sebastiao Salgado ha promosso un manifesto, un appello alle autorità e ai poteri brasiliani perché fermino il genocidio, così lo chiama, rispettando quell'isolamento che potrebbe proteggere l'Indios dal contagio contro cui non hanno difese, fermando l'irruzione nelle loro terre per portare coltivazioni intensive, allevamenti, cercare oro, legno o istituire riserve naturali cacciando le popolazioni indigene. Molto può essere fatto per fermare questa distruzione. Intanto nella comunità scientifica il dibattito è acceso. Il coronavirus sta veramente perdendo forza? Cosa è dovuta alla diminuzione dei casi? A un indebolimento del virus o alla nostra capacità di reazione e di intervento, le misure di distanziamento, ai farmaci, alla conoscenza? Tante domande. Cinzia Dicianni. Mentre le terapie intensive si svuotano, qualche medico pensa che il coronavirus stia perdendo un po' della sua carica aggressiva per preparare un ritorno in autunno. Fenomeno non nuovo per le epidemie del passato. A volte una malattia ne eclisa altre, come fece la peste nera con vaiolo e morbillo. La spagnola del 1918 ebbe tre ondate, favorite da guerra, malnutrizione e mancanza di gene, più utile far confronti con anni recenti e virus parenti stretti dell'attuale. In due anni la SARS uccise quasi il 10% degli 8.000 casi, fra Cina, Hong Kong e Canada, prima di scomparire nel 2004, letale ma sconfitta dalla sua stessa forza. La SARS dava una sintomatologia molto importante con una contagiosità, soprattutto nella seconda settimana. In pratica i più contagiosi erano i malati molto gravi ed era venire a contatto con loro che diffondeva l'epidemia. Covid-19 è una malattia più subdola perché ci sono molti più individui contagiosi nella popolazione e non soltanto i malati gravi. Una malattia non è mai solo una questione privata, è anche una sfida sociale che vede in campo ricerca scientifica, industria farmaceutica, strutture e strumenti di cura, ecologia e investimenti. I virus imparano e si adattano ai corpi e al mondo che trovano. Lo sostiene la teoria detta patocenosi, elaborata dallo storico della medicina Mirko Gormek e al centro del nuovo libro di Paolo Vineis. I virus mutano e le mutazioni vengono selezionate a seconda di questo contesto. Per esempio il distanziamento sociale facilita la selezione di virus meno aggressivi perché devono sopravvivere in ospiti che non trasmettono il virus facilmente ad altri soggetti umani. Invece se c'è molta densità abitativa, non c'è distanziamento sociale, c'è molta mobilità dei soggetti, il virus permettersi di uccidere più rapidamente l'ospite. Dunque il virus sta davvero indebolendosi? Non c'è nessuna prova che questo stia avvenendo però. Non possiamo abbassare la guardia pensando che forse il virus subirà delle mutazioni e quindi diventerà meno aggressivo. Dobbiamo applicare i principi di precauzione, pensare che potrebbe esserci una seconda ondata in conseguenza delle riaperture e quindi prepararci ad affrontarla. Ed è appena uscito uno studio che riguarda la diffusione del virus attraverso il fiato, prende in considerazione distanze molto ravvicinate, la ricerca pubblicata sulla rivista PNAS è seria, ma è bene fare qualche precisazione. E Maurizio Menicucci ha sentito un esperto. Non solo con i respiri, ma anche con le parole, lo studio lo conferma. Una semplice conversazione troppo ravvicinata e magari concitata può essere pericolosa. I ricercatori americani hanno calcolato che ogni secondo emettiamo migliaia di goccioline di saliva che possono trasportare il coronavirus. Le hanno divise in due classi, le droplet più piccole capaci di restare sospese nell'aria fino a 14 minuti, la cui probabilità di veicolare un virus è una su 10.000 e quelle di maggior diametro dove il carico virale è più elevato. In un minuto di conversazione circa 1000 contengono un virus. Quelle lì sono la principale fonte di contaminazione, non tanto la permanenza nell'aria delle microparticelle più piccole che però hanno una concentrazione di virus molto 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 più bassa. In ogni caso i risultati della ricerca non devono allarmare perché le condizioni erano piuttosto insolite. Un ambiente molto confinato e molto anomalo, cioè una scatola nera attraversata da un laser di 30 cm senza ricambio d'aria. Ma di solito noi non parliamo a una distanza di 30 cm. Radoppiando la distanza, la probabilità di infettarsi di mezza? No, il dato è molto interessante perché con il raddoppiarsi alla distanza si riduce di 4 volte il rischio. E se volessimo abbatterlo ancora evitando di alzare la voce? Sicuramente quando uno usa la voce alta e mette più goccioline è più lontano, quindi allontanarsi per poi urlare non è di grande utilità. La cosa definitiva è sicuramente utilizzare una mascherina che aiuta a evitare che queste gocce vengano mandate molto lontano da chi le produce. Un solo virus può dare l'infezione? Questa ipotesi è vera in alcuni casi, in altri no. Su il coronavirus la teoria che una particella virale da sola basti a dare la malattia non è ancora verificata. Oggi è la giornata dedicata alla radiologia senologica. Nella fase 2 è importante che le donne riprendano i controlli per la prevenzione del tumore mammario interrotti per l'emergenza Covid. Alessia Mari. Sono state 371 mila le diagnosi di tumore l'anno scorso in Italia, più di mille al giorno. Nei primi mesi del 2020, a causa della quarantena da coronavirus, sono calate del 30%, prima per la chiusura degli ambulatori, poi per la paura di contagiarsi. Decine di migliaia di diagnosi perdute da recuperare con la fase 2. Molte donne in questi mesi di pandemia hanno rimandato un controllo al seno, una mammografia o una visita programmata dopo un intervento per tumore alla mammella, che nel 2019 ha colpito 53 mila donne in Italia. Migliaia di visite mancate, troppe per una patologia in cui la diagnosi precoce salva quasi il 90% delle vite. La seconda giornata nazionale della radiologia senologica richiama le donne all'appello. La SIRM, Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica, ha creato una casella di posta elettronica per chiedere consigli e informazioni. Senologia per te, chiocciolasirm.org È importante che le pazienti eseguano gli approfondimenti diagnostici richiesti, per esempio agobiopsie. È importante che le donne con sintomi di tumore mammario, nodulo palpabile, retrazione di cute e capezzolo, secrezione ematica dal capezzolo, ottengano un accertamento non differibile. Sintomi riconoscibili con l'autopalpazione periodica. Importante comunque riprenotare subito gli appuntamenti mancati. Gli ambulatori sono sicuri e i percorsi protetti e separati da eventuali pazienti Covid. Su sito SIRM è possibile reperire linee guida per tutta l'attività ambulatoriale pubblica e privata, dove sono richiamate le norme per garantire a tutta l'utenza l'accesso in sicurezza presso le proprie strutture. Ma quali sono i tempi entro cui fare i controlli? Le donne che sono state operate di tumore mammario e sono in follow-up annuale dovrebbero ottenere un appuntamento non oltre un anno e tre mesi e le donne asintomatiche che durante la pandemia non hanno risposto all'invito di screening o sono state informate della sua sospensione dovrebbero eseguire una mammografia preferibilmente non oltre tre mesi dal controllo mancato. Si è detto spesso che la natura durante la pandemia ha ripreso i suoi spazi ma non sempre una buona cosa, almeno non nelle zone protette dove l'assenza di turisti in realtà sta lasciando campo libero ai bracconieri. Qui siamo in Kenya, nell'oasi per la conservazione di rinoceronti neri qui sono più numerosi che in ogni altra parte d'Africa erano rimasti solo 350 alla fine degli anni 80 ora sono 800 in Kenya, su un totale di 5.500 sul continente cacciati per il loro corno, rivenduto più caro dell'oro per la richiesta della medicina tradizionale cinese che attribuisce la polvere improbabile in proprietà i rinoceronti neri sono tra le specie più a rischio d'estinzione proteggerli con personale armato costa circa 10.000 dollari per ogni animale l'anno un paio di milioni di dollari solo in questa riserva ma i turisti non arrivano più, le casse sono vuote grazie alle osi protette la popolazione di rinoceronti neri era cresciuta ad un ritmo del 2,5% l'anno in Africa vedremo i risultati